Prosegue il fuoco di fila da parte degli esponenti di opposizione contro l'amministrazione comunale di Imperia, in particolare contro il nuovo piano dei parcheggi relativo alla zona di Porto Maurizio. Antonello Ranise, coordinatore cittadino di Forza Italia, ricorda che i finanziamenti ricevuti dal Comune per la ristrutturazione urbanistica e della sosta di Porto Maurizio sono stati approvati dalla Regione con la Giunta burlando e l'amministrazione comunale dovrebbe essere in grado di allargare le maglie dei vincoli regionali invece di perdersi in un poco edificante teatrino della politica volto soltanto a tenere in piedi la traballante maggioranza. Il capogruppo di Imperia riparte Giuseppe Fossati e il consigliere di Fratelli d'Italia Alessandro Casano hanno invece presentato una mozione in Consiglio Comunale per contestare gli eccessivi costi dei pass per il parcheggio dei residenti pari a 100 euro per la prima auto e 300 per la seconda. Fossati e Casano chiedono quindi l'immediata sospensione del piano della sosta e di rivedere il progetto attraverso un confronto con tutti i gruppi consigliari e i comitati cittadini.